E' l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Si aprirà il 26 novembre un nuovo ciclo di incontri della Scuola per Genitori promossa da Confartigianato Vicenza. Come nelle precedenti 11 edizioni, ben noti e qualificati esperti affronteranno, in un contesto che darà spazio anche al confronto con mamma e papà, temi di sicuro interesse anche perché suggeriti dagli stessi genitori. L'appuntamento di giovedì prossimo a partecipazione libera prevede un focus sulle professioni e i contesti occupazionali, ovvero come il mondo del lavoro si presenta oggi ai nostri figli. Sul resto del programma sentiamo Sandra Fontana, responsabile di Confartigianato Impresa Famiglia. Partiremo il 26 di novembre con una serata dedicata al mondo del lavoro per i nostri figli e tenuta dai rappresentanti delle diverse realtà professionali vicentine. Parleremo di globalizzazione e di come questo è impattato sul mercato del lavoro, sulla società e sui diversi modi di comunicare. Ed è a questo tema, proprio alla comunicazione, che dedicheremo le prime due serate di Scuola per Genitori, il 4 e l'11 dicembre, durante le quali ci soffermeremo proprio sulle insidie e le opportunità della rete per i nostri figli e sulle subculture giovanili. Questi mondi sommersi e paralleli che i nostri figli visitano quotidianamente, spesso ad insaputa dei genitori stessi. Parlando di comunicazione che cambia in questo mondo globale, è inevitabile parlare anche di nuove metodologie di apprendimento. Lo faremo con la professoressa Lucangeli, che ci racconterà come gli apprendimenti dei nostri figli siano diventati più orizzontali che verticali, cioè più allargati che profondi. Finiremo con Don Mazzi, che ci darà una panoramica sulla fragilità del mondo giovanile in tutte le declinazioni delle dipendenze, tecnologia compresa.